Ciao a tutti! Come vedete sono in una sala di doppiaggio perché sto doppiando un film incredibile. È la storia di Kina e Yook, due volpi artiche, alla scoperta del mondo e io sono qui proprio per raccontarvela la loro storia. Ma non voglio svelarvi troppo, quindi guardate il trailer e soprattutto andate al cinema a vederlo. Ciao! 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 Viva una straordinaria avventura per tutta la famiglia. Incontrerai nuovi simpatici amici in un viaggio straordinario attraverso le meraviglie della natura. Kina e Yook alla scoperta del mondo dal 7 marzo al cinema.